Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play, oggi siamo di nuovo insieme sui Football 2025, ma non sono da solo, c'è un ospite, c'è un ospite speciale, dopo avermi aperto le porte del suo canale è arrivato il momento di fare altrettanto. Ovviamente sapete già di chi sto parlando perché trovate il tag nel titolo, quindi non prendiamoci in giro. Vi ricordo prima di andare avanti, che è importantissimo per essere sempre aggiornati su quello che succede sul mio canale, lasciare appunto l'iscrizione con la campanella attivata, arriviamo almeno a 150 mi piace per questo contenuto e ce ne saranno degli altri, ho detto tutto. E inoltre quest'oggi ho da darvi un altro annuncio molto importante, ovvero che questa sera alle ore 20 e 15 io e il socio più socio che c'è alle Benni 86 saremo in live qui sul mio canale per commentare la finale playoff del torneo tifosi seconda edizione, che vedrà sfidarsi scimmiato con il Milan e Gambler con la Juventus. Se avete seguito le semifinali di questo torneo sapete già di cosa sto parlando, a maggior ragione non potete mancare. Ed eccoci qua ragazzi, eccoci qua, come detto nell'intro, un ospite speciale, è proprio lui, ve lo aspettavate perché abbiamo fatto andata sul suo canale, adesso ritorno tra virgolette, Drake, I am Drake X, ciao Diego, benvenuto. Ciao Simo, grazie ragazzuoli, saluto a tutti. Ciao ciao Diego, un piacere averti qui, era doveroso chiaramente, anche perché ce l'hanno chiesto, ce l'hanno chiesto in parecchie. Quindi sono stati abbastanza felici, come dicevamo prima dell'inizio della registrazione, ragazzi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Cosa faremo quest'oggi? Niente, faremo quello che abbiamo fatto a casa Drake, a casa Diego, quindi qualche partitella mentre chiacchieriamo e sparliamo di questo videogioco. Ci sta, ci sta. E ovviamente io invito tutti quanti, se già non lo conoscete, ma mi sembra difficile, a passare appunto sui social del Buon Drake, trovate tutto in descrizione. Poi tra l'altro trovate anche il suo canale taggato nel titolo, niente di più semplice, cliccate sopra e vi si apre il canale YouTube. Fa contenuti molto belli, diciamo sempre su questo videogioco e su altro. Allora, siamo pronti? Pronti, pronti, io entro intanto. Di cosa parliamo oggi? Delle modalità che non arrivano mentre giochiamo? Quello e quello, guarda, ogni volta mi dicono che sono ripetitivo in live, ma gli argomenti sono quelli, eh. No, no, ma concordo. Di tante modalità e dei passi indietro che ha fatto ovviamente Konami nel tempo, quelli sono inspiegabili, sono inspiegabili, i passi che ha fatto indietro, da PES 20 fino ad oggi. A livello di modalità, sì, assolutamente, anche a livello di gestione della comunicazione, secondo me, eh, di... Ma, sì, diciamo... Parlano poco e niente, parlano poco e niente adesso, eh. E' un momento un po' così. Anche che, ripeto, l'edit c'era, la Master League c'era, eh. Io penso che non avrebbe senso levare questa roba per poi rimetterla, quindi io penso che non la vedremo in futuro, ma ovviamente è un mio pensiero, eh. Ma, quindi, secondo te, la Master League non arriverà? Se proprio lo fanno è perché, per salvare il gioco e per accontentare i fan un po' più fedeli al prodotto, secondo me. Eh, perché forse ai nuovi, ai nuovi, per me sono abituati, capito, a stare senza la Master League. Io ancora un po' ci spero, lo sai di, eh. Ma come DLC o come all'interno proprio del gioco? Come DLC acquistabile a parte. Io, secondo me, lo metteranno una trentina d'euro, una quarantina d'euro. E... chi lo vuole lo compro. Eh, tanto, sì, però se, secondo me, se fanno un prodotto di qualità, quello sarà il prezzo. Tu dici meno, può essere pure una ventina d'euro, sì. No, aspetta, tu dici DLC di solo Master League. Sì, Master League completa con... L'editor, secondo me, sarà gratuito, invece. Se lo mettono, eh, perché può essere pure che si avvera l'ipotesi che hai detto tu che non mettono un cazzo di niente. No, no, quello che mi fa pensare questo è perché, appunto, che senso va a levarlo da PES 20 a EFUTABLE 22, quindi chiamare, cioè cambiare tutto il layout, il tipo di gioco, eh, e poi lo vai a riaggiungere, cioè, perché? Capito? Quello che mi fa dire, allora non penso che lo faranno, capito? Sì, 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 sì. No, ma... Magari, magari lo fanno. Però, cioè, ormai non ci spero tanto. Su questo sì, su questo potresti avere ragione. Io ancora un po' ci spero, come già detto. È bene, è bene, sì. Perché come content, no? Io ovviamente sono più un player da online, ma come content, cioè, tu, ad esempio, tu la porteresti, bella Master. Sì, la porteresti su YouTube e mi soglia, sì. Lo diciamo anche qui, perché è importante, sai, le persone mi chiedono spesso, ma tu, se la Master League la porteresti di nuovo, se è un caso di ritorno clamoroso, è normale, regà. Ma, comunque, preferisco l'online, quello sì. Beh, certo, sì. Player Pompid. Non mi piace le botaniche. Questo moduletto che stai utilizzando, dove l'hai pescato? Fatto da me. Ti piace? È un rombo meta... Rombo meta classico. Sì, prima alzavo un po' i... Cioè, invece che avevo i trequartisti e il cc, cioè, avevo i trequartisti e il trequartista. Poi ho dovuto mettere dentro Cryf e Totti e per metterli bene in campo mi sono inventato sta cosa qua. Però già lo provai in futuro, eh. Non è nuovo. L'avevo già provato un bel po' di tempo fa. Sì, sì, è un modulo meta utilizzato e molto molto funzionale, con il rombo a centrocampo, diciamo, no? Ti dà abbastanza equilibrio. Sì, ma non so tu che ci metti di istruzioni, non lo so, eh. Io, no, attualmente non sto usando il rombo. Sto usando questo qui con i due mediani difensivi, cioè il collante e l'incontrista. Che poi è lo stesso che ho utilizzato nel video dove abbiamo giocato. Ma, sapevi, tu non cambi spesso. Io perché mi diverto a testare, a fare ogni dieci game, ogni dieci game più o meno cambio modulo. No, io ogni dieci game no, però almeno un modulo al mese lo pubblico. Poi non è detto che lo uso anche in privato, perché magari in privato utilizzo quello con cui effettivamente mi sta girando meglio. Ma a livello di content, almeno un modulo al mese cerco di farlo, perché è importante. Cioè, alla fine, lo dicevamo anche nel video sul tuo canale, sono i video che tirano di più. Esatto, esatto, esatto. Esatto, esatto, esatto. E io lo provo sempre perché può entrare, può entrare. E dicevo, quindi, una classifica cop, sempre con giocatori solo Dream Team, quindi che non toglie la scioppata, perché alla fine a Konami quello interessa, ma che dà la possibilità di fare qualcosa di differente. Perché molti mi dicono, no, la classifica cop non la metteranno mai, perché così tolgono sciopp al Dream Team. Ma falla col Dream Team la classifica cop, scusa, così comunque se vuoi giocare i giocatori li devi scioppare, se vuoi giocatori forti, no? Beh, certo, però in quel caso tu utilizzeresti i player che c'ha il tuo avversario. Anche, anche, ma appunto scioppate tutti e due, così siete più forti. Sì, vabbè, certo, certo, certo. Perché questo per rispondere al fatto è che non mettono la classifica cop perché altrimenti tolgono punti allo shop, diciamo. Io la soluzione, secondo me, è quella che ho descritto io. Fare una classifica cop solo con il Dream Team, cioè non con i giocatori reali. Perché con i giocatori reali? Con il Dream Team. Ma a parte la classifica cop, orca madonna, a parte la classifica, ma io dico perché loro mettono le cop e poi le levano? Qual è il problema? Eh, questo non l'ho capito manco io, sai. Questo è un mistero, non lo so perché. Eh, guarda che per me c'è qualcosa di sotto, eh. Da quello che ho visto l'hanno messo per più giorni, se non erro adesso. Per tipo, avevo letto 13 giorni, ma forse dico una cazzata, bisogna andare a controllare. Che è una cosa che avevo letto su Twitter. Ma perché i server non reggono, quindi per alleggerire i server? Non lo so, perché è assurdo. Cioè, c'è una modalità, lasciala per sempre, perché vuol dire? Perché vuol dire? Non lo so spiegare questa cosa. Dobbiamo andare a controllare dopo la partita, dovremmo ricordarci in teoria, se hanno messo, perché avevo letto questa cosa su Twitter, ma magari è una cazzata, perché l'ho letta proprio al volo, eh. Questa cosa su Twitter che hanno allungato il tempo dell'evento Copp. Ok. Poi andiamo a vedere. Prima era di? Di due giorni. Tre giorni, due weekend. Ah sì, è vero, solo il weekend, è vero. E poi, guarda, a me le Copp non piacciono, eh. Però, ecco, se devo farlo di contenuto, sì, vabbè. Anche a me giocarle non mi fa impazzire, no. Non sono così, diciamo, spigliato come nell'uno contro uno, anche. Esatto, esatto. Però... Io sono un po' più un traiardone così, uno contro uno. Pure io, pure io, pure io. Però, comunque, per spezzare la monotonia delle divisioni come contenuto ci può stare. Sai un'altra cosa che non ne abbiamo parlato, adesso ne parliamo, che sarebbe, no, interessante di più, secondo me. E' un 10 contro 10, un 11 contro 11, come stava... Sì, l'avevamo detto. E' tipo un pro club, no? E' tipo un pro club, è tipo un pro club, però, attualmente, con il panorama che si sta creando, no? Che ci sono i team e-sport, eccetera, anche OP, si andrebbero a creare le squadre serie e nascerebbero ulteriori team e-sport per una cosa del genere. Sì, potrebbe essere anche a livello competitivo molto, molto figo. E ovviamente, molti diranno, eh, ma... Così togli i punti al Dream Team. Ma fallo con il Dream Team, no? Solo con i gelatori del Dream Team. Oh... Ci ho provato. E poi sì, perché... Diciamo che... Che ne so... Non so, voi siete già in 10 in Outplayed? Siamo 13 in totale. Allora, vedi, già voi, volendo, se dovesse partire una cosa del genere, potreste fare un team tutto da 10, con pure le riserve, vedi? Forse 14 in futuro, si vede. Forse. Vabbè, vedremo. Quindi, ecco, vedi voi... Sì? Ci guardiamo sempre intorno, no? C'è il calciomercato di estate. No, per le squadre, c'è anche per i Team Sport. Esatto, esatto. Oh, via Irak non mi ha fatto la crocchetta, tu, cioè... E' andato in ferie. De Mar? No, via Irak, io gliel'ho messo. No, gli hai messo doppio tocco a via Irak. Ha voglia. Aspettate, guarda. È tanta roba, sì. Io... Lavoro da Gullit, ma... Ho scelto Francesco Totti, ho scelto. Uh, bellissimo. Eh, vedi, se c'era la crocchetta la facevo, ma purtroppo c'è il Totti vecchio e quindi niente. Ebbè, non glielo passi, cioè nel senso... Ma lei mi ha detto, eh, Drake, ma c'ha una passiva diversa, è classico numero 10, poi quello c'ha la maglia della Roma proprio originale, più bello, indietro. Eh, per collezione. Eh, infatti... Vabbè, tanto lo trovi. Che trovo? E prima o poi un altro doppio tocco lo troverai. Ah, io ho aperto più di 200 abilità, solo due l'ho trovata, solo due su 200 abilità. Dai, che schifo. Vabbè, ma l'abbiamo detto perché? Perché ovviamente è un'abilità meta, quindi non te la possono regalare, ovviamente. Certo, certo. Sanno che va a rendere la carta molto forte, quindi... Non te ne danno tante, vabbè. Bello. E quindi sono due. E ho detto, vabbè, vado a cuore, la do a Totti e l'altro l'ho data a Eto. E che... E tu ce l'ha per... Quello vecchio non ce l'ha? No, io c'ho il Eto nuovo. Allora forse l'ho data a Cryfe, Cryfe non ce l'ha. Cryfe non ce l'ha, sì. E tu ce l'ha? Allora l'ho data a Cryfe, se non mi sono sbagliato. Allora, Totti e Cryfe, sì. Sì, io ho visto che a tutti gli attaccanti che c'ho, ma perché c'ho questi nuovi, vabbè, a tutti ho dato il dribbling alla Neymar, a tutti. Eh, me l'avevi detto, ma lo sai che io preferisco avere equilibrio? Cioè qualcuno alla Neymar, qualcuno normale. Perché sono due movimenti diversi che possono servire tutti e due. Ah, dici il tipo di crocchetta, sì, certo. Sì. Però ecco, l'ho data a Romario, a Eto, a Cryfe, eh, sono fighi. Sì, Cryfe ci vuole. Spadolocio, ci hanno tanto dribbio, quindi lo fanno perfetto, lo fanno. Sì. Uh, capitano. Il capitano, raga. Allora, come abbiamo detto, non è meta, eh, perché non è assolutamente meta. Però quanto diverte, ma. Sì, vabbè, ma poi... Sono romanista, eh. Sì, pure io, ma questi... Sai, questi sono i primi giorni ancora del capitano, quindi... Dice, poi me lo nerfano, eh. Secondo me sì. Mi toccherà comprare un altro. No, comunque non è in meta, l'abbiamo detto. Sì, no, non è in meta. Ho detto, se devo andare a fare un torneo, uscirgo tutta la vita Neymar. In quel ruolo. Però io, Totti, lo sto usando punta, perché non lo so, mi piace punta, non lo so. Tipo Scarpadoro, vabbè? Sì, sì, ma proprio, non so, cioè, mi diverte proprio metterlo punta. Mi piace proprio. Poi ripeto, è molto... Se muove un sacco, bene se muove, capito? Se c'ha bei movimenti, mi fa un pazzino. Poi è Totti, è Totti. È il capitano. Se c'è un altro nome, no. Però è Totti, mi piace, sì. È arrivato il momento della girandola dei cambi, come dico in commento. Ma, se posso chiedertelo, ma c'è un momento specifico in cui conviene fare i cambi? Io li faccio dopo il sessantesimo, in genere. Perché... È buono farlo. È buono, la maggior parte sono stanchi, poi perché le carte riserva di lusso si attivano dopo il sessantacinquesimo, in teoria sessantesimo. Ah, non dal quarantacinque. Ma, io quello che noto e quello che so anche dai vecchi PES è sempre che metterli dopo il sessantesimo. Questa è l'impressione che mi danno, anche... Dopo il sessantesimo. Sì, anche perché farli prima del sessantesimo forse è un po' uno spreco che ancora non sono ben stanchi i giocatori, diciamo. Al cinquantesimo ancora c'hai carte fresche, eh. Io aspetto che scendano un po'. Per sfruttare... Sì, faccio sempre al 70. Ah, va bene, al 70 va bene. Io li tendo a fare un po' prima. 60, ok. Sì, 60, 65, ma anche 70 va bene, eh. Vabbè, ci stiamo là tanto, eh. Cioè, meno è quello. Sì, infatti. No! L'hai parata? No, no, palo, palo. Ah, palo. Pensavo fosse parata palo. Sì, vabbè, stava su quel palo il portiere. Sì. Solo che... Diciamo, non hai preso lo specchio. C'è che è il portiere che soffre di più, mamma mia. Sì, poi se uno lo muove anche diventa... Eh, sì, sì, sì. Però devo dire la verità. Rispetto ai vecchi, i football, quindi 23, 24, i portieri non Epic paravano molto di più. Adesso sembra che solo gli Epic parano. Eh, ma perché si sono alzate le statistiche degli altri giocatori, anche a livello di finalizzazione. Sì. Eh, secondo te lo faranno mai un reset? Ma questa è una domanda difficile. Secondo me, no. Per adesso, no. Non cosa non è? Se lo fanno è tra 5-6 anni. Ah, così lungo? Secondo me, in questo tipo di giochi non sono previsti reset. Tipo i football, dici? Ma io dico, credo che se mai lo faranno, devono avvisarti a inizio season. Certo. Perché così io so se shopparo o meno, perché non posso shoppar l'anima. Uh! Non posso shoppar... Alla Totti, fra di sinistro. Eh, l'ho visto. Come contro la... La Samp era più distante contro la Samp, era più laterale. Però, prendo l'idea. Con la differenza che Totti ha fatto gol. Esatto. Esatto. Quello è un gol, penso che entra nella storia, veramente. Ma proprio del calcio, non so. Eh, voglio. Quello è un gol, assurdo. E poi lo fece anche uno simile di Natale. Ma quello dei Totti è più bello. Sì. E che te stava... Sì, devi avvisarmi, perché io ormai shoppo l'anima. E poi tu, l'anno dopo, me levi le carte. E vaffanculo, no? Scusa. Eh, chi l'avrebbe sbagliato il passaggio? Proprio viera. E perché proprio viera? Eh, ma ti ha recuperato il gol, viera, eh? Eh, vabbè, lui fa quello. Lui fa quello. Tra lui e Turam, non so che è meglio, guarda. Oh my God. Pazza. Muori. Se non spazi, non sai nessuno, te lo giuro. Eh. Va spazzando, per forza. Io a volte vinco il game, tipo dal 70 in poi. Solamente spazzando, perché se costruisco... Prendi il gol, certo. Eh sì. Ma io sto sotto al sedio. Non riesco a fare, devo spazzare a forza. Chi è questo? È tu. Viera. Ma io ero stanco, non l'hai cambiato, eh? Eh sì. Eh beh, lo voglio dire a caso. Bravo, bravo, bravo. GG. Bella partita, bella. Ci vuole la seconda partita anche qua, ovviamente. Equilibrata, va, equilibrata. Eh sì, assolutamente sì, certo. Ma ripeto, siamo, adesso mi hanno messo i tacchi giù all'ultimo, sono partite, cioè, giusto così, non è che stiamo a tenere l'occhio. Certo, ma no, ma siamo cazzeggiando, ma no, io dico, com'è giusto che ne abbiamo fatte due, al tuo video ne facciamo due anche qua, per dare più partite ai ragazzi, altrimenti dicono che li abbiamo lasciati a bocca asciutta, ci dicono, ci rimproverano. Esatto, esatto. Le facciamo così, non tocco niente, startiamo così tanto, no? Sì, sì, startiamo così, assolutamente. Ma tu, ma hai messo pure i supplementari? No, non li ho messi, ma mo li metto. Ah, ok. Mi sono scordato. Quindi prima, in caso avessimo pareggiato, finiremo... Pareggio sarebbe stato, sì, vabbè. Vabbè, ma ci sta. Alle volte uno si dimentica, ti sei dimenticato pure nel torneo. Lascia stare, guarda, quello è un grande rimpianto, perché io ho detto ai ragazzi, ho detto infatti, dico, guardate che è stato fondamentale quell'episodio per me, perché ogni partita che comincia è una partita a sé, e può essere che quella partita, ma il gioco me la faceva vincere, magari, no? Certo. Un rimpallo, una cosa, una svista, si frizza un contrasto, quindi... O magari potevo vincere, visto che poi là mancava perché mancavano i supplementari, magari mi mettevo tutti dietro, ma la portavo fino ai rigori, e poi magari andavo a vincere i rigori. Invece startare un nuovo game tutto da capo ha fatto, per me ha fatto la differenza. Dì, ma secondo me dovresti cominciare a partecipare anche ai tornei generali, cioè ad esempio io faccio il torneo della mia community, Ale il suo, Ostrano Nerd, anzi ti invito, secondo me dovresti fare anche tu i tornei della tua community. Ma io li volevo fare, però io vabbè, da quando ho iniziato gli aspettavo sempre il crossplay, perché mi dispiaceva poi escludere i player Xbox e i player PlayStation, no? Però ho visto come stanno le cose, che tanto il crossplay non c'è, tanto vale farne uno solo per PlayStation e poi magari uno per Xbox. E come ho fatto io, io ad esempio sono alla terza edizione quest'anno su questo gioco di quello PlayStation e alla prima su Xbox, perché poi alla fine ho messo anche un'edizione su Xbox. Quindi io ti consiglio non solo di partecipare ai tornei dei colleghi, diciamo, per fare esperienza, puoi farci contenuto, eccetera, ma anche di farli tu stesso. Eh, diciamo, perché ovviamente tu sei molto più aspetto, sei più del meccanico. Di organizzarli proprio, diciamo. Eh, organizzarli come faccio? Cioè, me dovrei imparare, capito? Me dovrei imparare. Eh, vabbè, poi ne parliamo, dai. Poi ne parliamo, così ai ragazzoli gli diamo anche il torneo di Drake. E in paglio che ci mettiamo? Eh, beh, si mette, si raccolgono le iscrizioni, si mette il monte premi, capito? Come si fa normalmente? Alla fine è una cosa che si fa per la community. Sì. Io riesco a mettere anche 300-400 euro in paglio ai tornei. Con l'Xbox di meno, con l'Xbox 100 euro ho messo, perché... Vabbè, scusa, c'è, giusto perché, per dire, c'è il monte premi, poi tu fai, di quei 400 che raccolti, c'è stanno 200 che ti prendi idea, signor, che cazzo fa fa? Beh, no, se ne raccolgono di più di quelli del monte premi, ovviamente. No, sì, era per dire che non è che uno fa pa' la gloria. No, no, io nei tornei play di solito metto 300-400 e se ne raccolgono 500-600, diciamo. Eh, questo. Ma c'è da pagare, chiaramente, anche le prestazioni di quando uno va a castare l'evento, no? E vedi quanto tempo ci mettiamo a organizzare, a castare. Non vengo solo io, viene il socio, anche, insomma... È tutto organizzato, certo. È tutto organizzato ed è un lavoro. Quindi io, anche perché prima del video stavamo parlando, no, di come gestire questo lavoro per fare al 100% di lavoro i football, no? Perché molti dicono non è possibile fare questo di lavoro. Beh, in realtà non è così, perché non è possibile fare questo di lavoro se fai solo YouTube e Twitch senza eventi aggiuntivi, diciamo, no? Perché se tu pensi di fare uno stipendio abbondante con la community di football solo tramite i video di YouTube, gli streaming di Twitch e gli abbonamenti, pensi male, perché non si fa uno stipendio fisso con questa cosa. Per fare uno stipendio fisso abbondante ci vuole l'organizzazione di tornei, ci vuole il coaching, un'altra cosa fondamentale, un'entrata fondamentale di cui parlavamo anche prima, di è che ci vogliono gli sponsor, che magari può essere Neba, Istan Gaming, in cui anche quello non guasta e ci vuole anche magari possibilmente l'appoggio di un team e-sport che ti fa guadagnare qualcosa, anche quello fa parte del brodo, diciamo, no? Ebbè, la parte fondamentale. Beh no, la parte fondamentale magari è quello che dà serietà e che ti permette di organizzare eventi seri, ma magari la parte fondamentale, te lo posso assicurare, è il coaching. Senza coaching io non farei questo, lo dico sinceramente, non sarebbe il mio lavoro al 100% senza coaching. Vabbè, diciamo, sei stato furbo, scaltro e a trovare quello che tu sai fare meglio, che ti piace e farlo piacere anche agli altri, certo. Sì, ma io penso che non è così negli altri giochi, c'è un esempio con un gioco come FIFA che ha più spettatori in generale. Se riesci ad emergere su FIFA puoi arrivare a fare questo di lavoro abbondantemente anche solo stremmando. Però io sto parlando di questa situazione lavorativa rapportata ai football, che è ben diverso. Per fare questo di lavoro sui football non basta assolutamente fare video e fare live, ci vuole altro. Certo, assolutamente sì. Quindi quando vi domandate c'è qualcuno che fa questo di lavoro al 100% è possibile farlo solo con i football? Sì, ma non solo attraverso i video nel live. No, certo. C'è sempre un incremento, no? Sempre. Se no non ce la puoi mai fare. Eh, no, no. A meno che non fai numeroni, ma... Sui football non ci sono numeroni. È molto difficile. È molto difficile. A meno che non hai una community di altro che ti guarda anche quando porti football. ad esempio, che ne so, Mike Shosha, quelli che portano FIFA. Che stava a dire proprio lui che stava a dire. Ovviamente se fai il video sui football fa meno view del solito, ma comunque 100 mila view le fa, capito? Esatto. Sì, pure di più. Eh, sì. Ma lui è bravo a imbastirti il titolo, capito? Certo. Spendo 100 euro sui football. Ma non è tanto quello. Lui anche se mette un punto fa comunque un sacco di più. Sì, certo. Perché ha la community di 3 milioni e mezzo di iscritti, quindi stiamo parlando di niente. Certo. Quindi ormai sono avviati. Dico che Marco si impegnano più, ma ovviamente per loro è molto difficile. Ah, no, 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 no. Te li ricordi? Eh. I croccantini? Perché questa è l'ora, anche nel video tuo. Esatto, a mezzogiorno. Giustamente è ora di pranzo e i gatti mangiano a mezzogiorno. Ma perché ci siamo fatti un sacco di risate, io e Diego, diciamo, in post-produzione, no? Quando si è accorto, ha detto, ma che è sto rumore che è? I croccantini. Già, i croccantini. Ho detto sì. C'ho un dispenser automatico. Chi mi segue lo sa, perché lo ha sentito un sacco di altre volte. C'ho un dispenser automatico di croccantini che dà i croccantini al mio grassissimo gatto che deve stare a dieta. Woxie, chiaramente, il ninnino. E gli dà ad orari. È uno degli orari alle 12, quindi tante volte quando registro a quest'ora si sente. Si sente. Ma adesso lo stanno a mangiare là sotto? Sì, sì, sono andato a mangiare. Su, cioè appena scendo loro arrivano. E ci hanno fame perché è ad orari, quindi stanno un po' a dieta, capito? Per il loro bene, ovviamente, l'ha detto il dottore. Vabbè, certo, certo. Ma loro mangiano anche, ora si chiede così, eh. Mangiano anche umido? Sì, sì. Mangiano l'umido a premio, però, così, una volta di due o tre giorni. Perché è molto calorico. Ma poi loro, tra l'altro, mangiano tutto moderate calorie della Royal Canin, tratto urinario, perché devono stare... Cioè, il maschio è stato male l'estate scorsa. Ok. Meglio stare a cervello il maschio. Troppo forte sto le ha. Fortissimo. Leavo, giocatore eccezionale. La cassa... Dici più forte di Neymar? A movimenti e la roba. Vabbè, ma è giocatore chiave, non è comparabile con Neymar. Neymar è regista creativo, non c'entra niente. La crocchetta la fanno uguale, io non vedo differenza. La crocchetta la fanno uguale. Però se tu mi dici più forte di Neymar, secondo me è giocatore chiave, regista creativo. Cioè, non li puoi mettere a confronto. No, no, dico... Fammi un'altra domanda che è più forte di un altro giocatore chiave, tipo più forte di Cruif, secondo me sì. No, no, sempre Neymar e Leao, ma a livello di esplosività, palla al piede, non di movimenti, in base allo stile che c'hanno. Come esplosività, palla al piede, capito? Eh, no, Neymar, sempre Neymar, come esplosività. Sempre Neymar, ok. Però a livello di giocatore chiave è il più forte che c'è, secondo me, Leao, eh. Eh sì. Questa carta di Leao, questa carta di Leao. Io c'ho anche tutti e due i Cruif. Ok. Quindi non... che sono i secondi più forti giocatori chiave, secondo me. Io c'ho quello del Barcellona dell'anno scorso. C'ho il Barcellona del Cruif, giocatore chiave, quello è pazzesco. Fortissimo, fortissimo. Secondo me... È più forte l'attaccante di rientra, assolutamente. Sì, sì, indubbiamente. È il secondo giocatore chiave più forte del gioco. Secondo me il primo è Neymar, perché oltre a tutte queste cose, all'esplosività, alle skill fotoniche, al tiro a giro, ai passaggi altissimi, perché Leao, stiamo parlando di una carta con comportamento offensivo 84, controllo palla 89, dribbling 97, possesso stretto 93, passaggio rasoterra 92, finalizzazione 85, accelerazione 97, velocità 98. Quindi di che stiamo a parlare controllo corpo 97, su 1,88m di giocatore. Quindi alto, non basso. Eccezionale. Ma lo scorso video tu non ce l'avevi, le tue punta, o sì? Sì, anche qua ce l'ho, le tue punta. Ah no, pensavo l'avessi messo... perché ho letto Rummenigge, invece no, è in panchina, mi sa. Sì, in panchina c'è Rummenigge, Rummenigge lo porto sempre, però da quando è uscito questo è tuo, è stato sostituito. Eh beh, se tu hai tanta roba, cazzarola, sì. E tu hai tanta roba. Questo sì. Sì, uscirà ovviamente anche Rummenigge, porca miseria che calda. Buco. Eh, qua si va così tranquillo. Kick off, ci sta. Guarda, ti giuro, i tiri rasoterra mi hanno svoltato il gioco. Eh, sempre, i tiri rasoterra sono importantissimi. Li faccio sia giro che così dritti, eh, mi hanno veramente svoltato il gioco. Il tiro piano piano, lo chiamo io. Sì, sì. Ma ti giuro, sono imparabili. Sì, sì. Ma ogni tanto si parano in manual, sì. Sì, a volte mi riparo, assolutamente sì. Però me ne entrano sì, 9 su 10. Sì, assolutamente. Ma importa? Oddio. Ma no! A volte fanno queste cose e si sfrangano contro il palo. Li vedi appesi al palo. È vero, si sbattano contro il palo. E i ragazzuoli ci vedranno anche in live da Milano, che le fasi finali saranno streammate, come già detto. Eh, se ci arrivo in finale. Sì, dico, vabbè, comunque sarai lì, eh. La mia, Rai, Cardu. Eh, vedi, vedi il tiro, il tiro, il tiro, l'asatero, annaccia la miseria. Beh, sì, ovviamente sì, poi ci faremo, sì, sì. Farò qualche... Stando live, facendo il video e tutto quanto, ovviamente verrai anche tu ripreso nel mio vlog. Eh, che cavolo. Certo, tutti, vero. Ma anche durante la semifinale, quando andiamo in live, ti butto in mezzo, faccio... Passi da dietro, come se niente forze, fai il personaggio, capirai? Faccio ricordo a qualcuno. Sì, sì, la parola, penso che ci... Sarà molto divertente, secondo me. La voglia. Qualcuno, voi, appesa ammazzettate. No, c'è la sicurezza tanto lì, eh. Qualcuno verrà. Oddio. Qualcuno andrà al TG? No! Voi non sapete retroscena, ragazzi. Ma dai, anche nello scorso... Eh, questo è brutto, questo è brutto, li subisco sempre. Pur in manual te l'ho presa. Ho visto, ho visto. Ma ti pensavo che riuscissi a tenerla, invece no. Eh no. E manco l'ho fatta a giro. Insomma, ci stanno anche i bodyguard, è proprio una cosa proprio seria. Sì, sì, un paio di guardie di sicurezza le mettiamo, non si sa mai. Ci sono comunque un centinaio di persone. Eh, sì. Vabbè, perché ovviamente può starci sia chi partecipa che non. Che non, sì. Gli accompagnatori, chi guarda, i fan, diciamo, che poi arrivano sicuramente. Vabbè, certo, qualcuno ci sarà giusto così a far vedere. Sì, sì. Per fare due foto, capi? No, ma gli eventi questi sono così, io non è il primo a cui partecipo. A Milano viene un sacco di persone. Cioè, se io in due giorni e mezzo ho fatto 64 partecipanti, più tre in lista d'attesa ce ne sono già. In due giorni e mezzo. Se io continuo, ma non c'è lo spazio per fare sta cosa, no? Però se io continuo arrivo a 128, eh. A Milano si arriva. Certo. No, sono contento, mi sembra che ho visto che è entrato l'Evansonic. Sì, sì, è entrato perché un ragazzo ha dato forfè e lui era in lista d'attesa. Era primo in lista d'attesa. Ci stanno tutti, tutti. Non potevano non starci, dai, che cazzo, è troppo bello come evento. Tutti, Ettore manca. Perché sta in Polonia, sta in quei giorni. Manual check. E' bello che si è parato, sì. Bello e bello, sì. Molto forte. Poi con una mano, porca mi sembra. Quella basta. Eh sì, eh sì. Quello che spilungone, quant'è altro? 1,93, quant'è altro? Sì, sì. Di più, ma non lo so. Dobbiamo vedere. Prima non abbiamo... Ci siamo scordati anche di vedere quella roba delle cop. Non ce lo ricorderemo mai, fra... Mai ce lo ricorderemo. Forse dopo, ma non ti assicuro niente. Vedi, l'esplosività di Neymar è quello che dicevamo. Eh sì. È insuperabile. Ma a me, guarda, nei giochi da calcio non c'è stato gioco da calcio che non ho preso Neymar. Pure quando giocavo sul telefono a Dream League Soccer, compravo Neymar. Troppo, troppo forte. Cioè, mi è casa troppo. Mi diverte un sacco. Invece troppo a Neymar. E senti, ma tu su FIFA come ti muovi? Che cosa fai? Arrivi in Elite? Su FIFA sto in divisione 1. E ora siamo riscesi perché ovviamente come su FIFA, come sui football è finita la stagione. E ora sto riscalando. Anche là riparto dalla 1 alla 4. Ora sto in 3 e sto scalando. In Elite non riesco ad arrivarci, ma non per non bravura, ma perché devo giocarci troppo. Sì, 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 sì. Devo fare troppe partite. No, io quando non c'era ancora il Dream Team sui football, che ti ricordi che c'è stato il periodo di football che non c'era il Dream Team, non c'era niente, che era il 2022, sì, 2022, 2021. Subito dopo il 2021 comunque. E giocavo a FIFA, l'Elite l'avevo fatta così, ma perché appunto c'avevo tanto tempo che c'era il Covid, giocavo sempre. Adesso non ci gioco più, perché preferisco concentrare. Ma poi, guarda, credimi, io spesso mi sbaglio e magari faccio sui football una finta di FIFA o viceversa. Mi capita spesso, eh. Mi confondo. Padda la mano poi nel gameplay, eh. Eh no, sei un co***o. Mannaggia a Raikard, ha messo il chetino. Quindi dicevo, spesso mi sbaglio, capito? Faccio le finte di un gioco su un altro, però vabbè, ci sta. Eh certo. Quindi sì, però a fine FIFA, visto, in live non riesco a portarlo perché poi spacco troppo la community, capito? Però su YouTube è un altro porto, su YouTube. Qualche reel o qualche shorts su Instagram, capito, sì. Però in live mi spacco troppo. Ma il tuo è un canale di football, io c'ho l'occhio, Dio, fidati. Eh, ormai sì, sì. Eh, è un canale di football, si vede dai numeri, non te lo dico sinceramente. I numeri che fai sui football sono buoni, i numeri che fai su FIFA. Eh no, beh certo, ma c'è troppa concorrenza. Poi n'è per niente. È che quello è, c'è troppa, hai capito bene, hai detto proprio la cosa giusta. Quando io streammo su Twitch la sera, sto contro Zano, contro Hollywood, cioè contro i colossi di FIFA. Come faccio a spicchiare? Come faccio? Eh, cioè, dovrei inventarmi un altro orario, ma no, non posso cambiare orario per FIFA, non esiste. Questo è il gioco nostro, però. Eh sì. Eh, si può valorizzare, ma gli altri non ci credono. Eh no, che devi fare con i football? Si può fare. Si può fare tutto. Sì, se cedesse una mano un po' Konami, sì. Ma anche senza Konami. Eh, lo sto dimostrando anche in questi giorni, facendo l'evento dal vivo, che la commu... Molti, anche professionisti, player professionisti, dicono, no, non si terranno più eventi con gente seria, monte premi alte, e boom, e gli ho fatto vedere. E come ti dico, mo, il fatto dell'annuncio della FIFA, anche, che fa il mondiale con i football, tipo, vabbè, non c'è l'Italia, ma l'anno prossimo ci sarà, secondo me. Certo. E questa è un'altra cosa eccezionale, secondo me, per il gioco, quello della FIFA. Stai preparando un gioco insieme, mannaggia la miseria. Ma magari prende il nome, capito? Dici FIFA e football, una cosa del genere, dici? Sì. Secondo me, più i FIFA. I FIFA, figo, eh? Ci potrebbe stare, sì. Dici, sfruttano la E, sì. Sì. Anche se FIFA ha detto che dava la cosa alla 2K, il gioco. Eh, ma la collaborazione con Konami ormai è ufficiale. Ah, no, beh, certo, ormai c'è sta, certo. Quindi, se adesso tu mi chiedi di scommettere, ma anche a te, secondo te, è più probabile la 2K o Konami che già ci collabora? Eh, Konami, certo. Eh, capisci. A questo punto, sì, dico Konami. Eh, no. Questa finta quadrato X di prima... Fammi arrivare, fammi arrivare, fammi arrivare, aspetta. Solo di prima, però, eh, fra? E poi tiri subito dopo. Bella. Fa finta col piedino, ma non tira, se la porta avanti e poi caccia. Sì. E solo di prima, così. Io mi accentro di prima, quadrato X, la sposta e tira a giro, è micidiale. Anche nel video sul canale dove ho fatto il gol così all'inizio, se ti ricordi. È proprio un marchio di fabbrica che utilizzo spesso. Ma quadrato X o puoi anche annullarlo con le... No, no. Quella si fa quadrato X, quel movimento. Ah, ok. Viene un tiro buggato che entra quasi sempre, mandi a vuoto il portiere. Perché c'è più certo... Sì, sì. Quadrato X, il super quadrato con supercancele, no. Non è per quello. Ok. Io lo uso semplicemente con quadrato X. Dai, ci siamo divertiti e li abbiamo fatti divertire. Si spera. Vabbè, basta, per le partite non puoi stare con il gol. Certo, a voglia. Sicuramente si sono divertiti, hanno passato del tempo ottimo in nostra compagnia. Chiaramente fateci sapere nei commenti che ne pensate, come sempre, dei match che avete appena visto. Questa è la mia frase finale. Ecco, ci fa piacere. Io ti ringrazio di nuovo. È stato veramente un piacere averti qui da me ospite. Ricordo di nuovo di passare in descrizione perché trovate tutti i social del buon Diego. E noi con lui ci vedremo prossimamente a Milano, forse anche prima sui canali, non si sa, saremo a vedere. Dipende, stampateci un bel 200 like e ci pensiamo. Dai, dai, già ve l'ho chiesto sul mio video anche a lui, dai. Dai, dai, dai. Grazie ancora Diego, ti saluto. Grazie a te, Simo. Grazie, ciao a tutti ragazzi. Ciao. Bella, ragazzi. Ciao a tutti.